con noi federico ormezzano è uno dei pionieri si può dire del rally lana di quello classico che c'è stato e ora anche del rally storico lo vedremo ancora anche quest'anno con la sua macchina la sua affezionata macchina che come dice appunto federico come prestazioni non è più un granché però i tuoi numeri il pre il pubblico li apprezza sempre beh io corrego di nuovo con la talvolotus con cui correvo nell 81 82 all'ana è una macchina che chiaramente non ha le prestazioni delle porsche delle ferrari che si usano oggi per vincere però io mi diverto guidarla per me ormai a 65 anni il divertimento è correre e partecipare alla gara guidando una macchina che mi dà le emozioni di allora mi diverto credo che si diverta anche la gente perché la macchina è piuttosto diciamo ballerina nel senso che si usa abbastanza il freno a mano per fare le inversioni quindi è come sempre un piacere fare il rally della lana per me federico i tempi del rally della lana quando ti vedevano con queste macchine non solo queste che usi a questa volta ma anche con altre macchine più più prestanti c'erano alcuni piloti biellesi che correvano magari con le porsche e con le stratos che ridevano un po e dicevano sempre ormezzano non riuscirà mai a vincere l'ana invece così non è stato e qualche volta tocca anche ai così alle cenerentoli se vogliamo con le macchine meno potenti vabbè nel 1978 con l'opel davanti a dell'estratto se nel 1985 con la con la con la con la manta 400 quando già c'erano le 037 le macchine a quattro rotte motrici diciamo che uno sta lì non demorde ci spera fino alla fine poi certe volte ti accompagna la fortuna no questo dimostra che non è sempre il mezzo meccanico che fa vincere ma chiaramente è la mano del pilota diciamo che nei rally contribuisci ancora un po forse più che in altre specialità motoristiche dove ormai se non hai la macchina non vai da nessuna parte bene anche con noi Claudio Bergo anche tu hai fatto per tanti anni il rally della lana e non l'hai mai vinto però ancora oggi ti vediamo sempre grande appassionato e tra gli organizzatori appunto della della parte storica si si faccio parte del faccio parte dello staff che organizza e quindi sono molto contento anche perché un po merito mio sia a biella sono ritornati i motori quest'anno avevo deciso di rientrare come pilota avevo fatto le mie belle visite mediche la mia bella licenza mi ero preparato una vecchia 309 se non che mio figlio ha deciso di rubarmela e quindi io farò la prepista ancora per un anno però mi sto preparando per rientrare ecco Claudio una cosa che va sempre diciamo messa in primo piano anche se è un rally storico bisogna sempre dare un occhio di riguardo alla sicurezza e soprattutto raccomandare il pubblico a un comportamento che non provochi i pericoli no no questo è un rally vero e proprio quindi il fatto che sia storico non vuol dire niente perché le macchine hanno le stesse cavalli delle moderne e quindi mi raccomando io sono contento perché la gente di biella e gente pubblico di biella è un pubblico molto ordinato l'ha dimostrato anche nelle altre edizioni però gli chiediamo veramente un grosso aiuto di stare composti e ordinati sulle prove e soprattutto di rispettare i commissari di prova perché i commissari di percorso sono delle persone molto umili lo fanno per la maggior parte gratuitamente loro hanno un occhio diverso di quello che è la sicurezza quindi vi prego di rispettarli e di ascoltarli perché sono lì semplicemente per la sicurezza del pubblico e per il bene della manifestazione quindi chiedo al pubblico proprio questa cortesia di rispettare i commissari e di essere ordinati come hanno sempre dimostrato di essere a biella e poi tutto andrà per il meglio Ecco Federico ancora una cosa sottolineava Piero Gliatti che ci sono nell'ambiente appunto c'è un po' di preoccupazione da parte dei big, dei piloti più quotati perché ci sono ancora oggi piloti biellesi che hanno la parola anche loro da dire su chi arriva o chi non arriva e come arrivare Beh a biella abbiamo espresso dei piloti molto forti l'anno scorso ricordiamoci che era l'istorico c'è stato Negri e il figlio di Claudio Omar che hanno fatto primo o secondo per cui assolutamente sono arrivati sul podio e per cui qui c'è una concorrenza molto forte le strade sono difficili quindi chiaramente essendo di qua c'è un piccolo vantaggio se vogliamo per cui anche quest'anno questi che arrivano da fuori che fanno tutto il campione italiano vedono un po' con preoccupazione sicuramente il fatto che ci siano dei piloti così forti a biella perché ce l'hanno più d'ora insomma Ecco proprio nel 2011 riuscimmo a intervistare Munari e sottolineava nonostante la sua età la bellezza di questo rally però la difficoltà nel guidare alcune prove speciali perché appunto sono proprio stradine Beh diciamo che i rally nelle autostoriche sono così ci sono percorsi in strade abbastanza larghe e ci sono anche strade molto strette diciamo che è proprio la caratteristica dei rally soprattutto delle storiche di oggi perché devono un po' ricordare i rally di allora, i rally di allora si correvano addirittura sulla terra e di notte oggi abbiamo addomesticato un po' però è giusto che siano prove selettive, difficili magari anche scomode per i piloti in certe situazioni Con noi Angela Berto è direttrice e direttore del centro commerciale Gli Orsi una manifestazione importante questa Gli Orsi non solo si rivolge a un pubblico diciamo di consumatori ma anche si presta a ospitare manifestazioni importanti Sì, per il quarto anno il centro commerciale Gli Orsi ospita il rally storico della Lana noi siamo orgogliosi di partecipare a questa manifestazione come palcoscenico dell'evento appunto perché ci saranno tantissime persone che interverranno sia come addetti ai lavori sia comunque solamente come pubblico e anche per i nostri stessi clienti è comunque una manifestazione curiosa e quindi possono anche vedere tutte le auto che verranno parcheggiate comunque nei parcheggi del centro commerciale e vedere la stessa partenza che partirà proprio dal centro commerciale Assessore al turismo al comune di Biella Andrea Gibello Primo anno di campionato italiano, primo anno iniziamo a fare sul serio e come primo anno siamo riusciti ad avere 150 equipaggi iscritti per cui si dice chi ben comincia noi abbiamo cominciato bene sotto questo punto di vista il Lana piace, comunque Biella ha un richiamo importante perché altrimenti non avremmo avuto questo numero di iscritti che arrivano, mi interessa sottolinearlo come Assessore al turismo arrivano da tutta Italia per noi l'importante è che il nome di Biella sia presente sempre nelle manifestazioni a livello nazionale Ho anche Patrizia Perosino, pilota di rally ha avuto anche delle presenze qui a Biella Patrizia, tu da pilota come giudichi questo rally? Questa è una gara molto bella come ho detto gli atti è molto tecnica non è facilissima però ci sono delle prove veramente belle da guidare Poi anche il pubblico biellese è sempre molto caldo anzi forse a volte anche troppo perché si mette un po' in pericolo e forse anche i piloti hanno un po' timore Il pubblico biellese è sempre molto presente molto caldo come dici tu quindi bisognerà fare molta attenzione a controllare la situazione durante la gara Ho tra due dei maggiori organizzatori di questo evento il rally l'anno storico terza edizione come abbiamo già detto sarà valida per il campionato italiano con noi abbiamo Lele Bodo e un passo avanti quello di quest'anno che porta sicuramente degli equipaggi di primo ordine Sì, terza edizione del rally storico prima edizione valida per il campionato italiano questo sicuramente ci ha dato una grossa spinta sia per le iscrizioni che per il livello di partecipazione non che gli anni passati fosse da meno ma direi che quest'anno proprio perché c'è di mezzo il campionato italiano sarà molto più combattuta come gara Ecco abbiamo visto l'anno scorso con la S4 proprio qui gli atti quest'anno due anni fa già due anni il tempo passa e quest'anno gli atti sarà con una con una gran ex macchina sua però tu come vedi ancora questo rally che tra l'altro hai potuto farlo in diverse edizioni e anche vincerlo? Sicuramente è un rally molto bello molto spettacolare molto seguito dal pubblico con delle strade bellissime molto bello secondo me anche questa tradizione che è iniziata appunto tre anni fa riprendendo questo rally e diventando rally storico perché io credo di più nei rally storici a livello nazionale che non nei moderni perché lo storico comunque ti fa vivere quelle emozioni che abbiamo vissuto da ragazzi quindi vedere queste Porsche queste 037 queste Audi 4 in queste strade fa sempre veramente molto piacere immenso oltre che vederle passare sentire anche questi rumori di queste macchine che purtroppo le macchine moderne non hanno più quindi bello tutto ottima organizzazione bravi tutti questi ragazzi che si dedicano anima e corpo a questa bella organizzazione e quindi speriamo veramente che ci sia tantissima gente a seguire questo evento Piero tra l'altro sono macchine storiche ma a livello di prestazioni hanno poco da invidiare alle moderne sì sicuramente sono storiche a livello di carrozzerie di motori queste cose qua però chiaramente la tecnologia va avanti anche su queste vetture quindi hanno delle sospensioni moderne un po' più moderne e soprattutto la differenza le fanno i pneumatici perché i pneumatici non sono più storici i pneumatici ma sono pneumatici moderni quindi hanno delle ottime prestazioni proprio perché hanno una tenuta incredibile Piero quest'anno ti vedremo da pripista se con sta Subaru che userai probabilmente come concorrente avresti un po' sbaragliato tutti no assolutamente no 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 farò da pripista con questa Subaru che ho guidato io nel 98 nel rally di Corsico dove giunsi il terzo è una macchina che mi fa piacere guidarla proprio perché sono tutt'uno con questa macchina l'altro giorno l'ho provata a Bioglio veramente mi dà sempre emozione perché è una macchina che ho sviluppato io quindi ho fatto tanti test e tanti chilometri ed è una grandissima macchina per me e quindi la farò da pripista cercando di divertire divertirmi e far divertire il pubblico Ecco Piero tu che sei ancora nell'ambiente ci sono tuoi ex colleghi piloti che corrono per il campionato italiano ma vengono qua a Biella a correre e sono preoccupati per diciamo i piloti biellesi che ce ne sono alcuni che veramente vanno ancora forte Sì perché il bello di queste zone qua sono queste strade che sono molto difficili molto tecniche e se non le conosci alla perfezione puoi perdere tanti secondi o addirittura sbagliare anche una traiettoria sono una curva dietro l'altro e quindi chi conosce bene queste strade sicuramente è avvantaggiato su degli altri che magari sono campioni italiani però non conoscono bene le strade come i nostri piloti Ecco Lele una scelta di tracciato che rievoca molte prove speciali classiche quindi tutti conoscono veramente questo rally lana come ai tempi era difficile ma ancora oggi sullo storico offre delle difficoltà sia per le macchine che per i piloti notevoli Sì le strade sono sempre le stesse le curve non sono cambiate quindi è chiaro che le prove Forse è peggiorato l'asfalto rispetto a una volta Beh ma fa parte è un rally quindi ci sta non è una pista forse una pista ci sarebbe magari da eccepire qualcosa il rally è bello anche per quello perché c'è sempre l'incognita dietro l'angolo le strade sono sempre le stesse ma l'altro giorno stavamo allestendo la Curino la Balticati che da 73 che si fa si è sempre fatta quindi sono 40 edizioni che viene fatta questa prova e tutte le volte che però la faccia la guido devo dire che ti dà sempre delle emozioni incredibili e poi appunto come diceva prima Piero c'è una curva dentro l'altra quindi anche se la conosci anche se l'hai fatta mille volte la prova rimane sempre sempre bella Ecolele è sempre importante anche per un rally storico la sicurezza quest'anno c'è una novità col GPS riuscirete dalla direzione gara a tenere costantemente sotto controllo la situazione diciamo un po' un sistema come già da qualche anno usano addirittura nella Parigi Dakar Sì esattamente è nato proprio per la Parigi Dakar perché non si riusciva magari a mantenere il contatto costante con le macchine lungo queste piste che non sono tracciati non sono neanche strade sono piste quindi nel deserto e poi è stata adottata nel mondiale non è richiesta dalla federazione e quindi è una cosa assolutamente superflua ma visto che a Biella teniamo in modo particolare la sicurezza sia del pubblico ma anche di chi corre abbiamo voluto adottare questo sistema che appunto permette la tracciatura in tempo reale ed eventualmente di lanciare da parte dell'equipaggio che si trovasse in difficoltà un allarme che viene recepito in direzione gara perché ogni prova ha un suo addetto e un suo monitor sulla quale proprio vengono monitorate costantemente tutte le vetture presenti sul tracciato ciao 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 ciao